Nelle pediatrie e nei pronto soccorso italiani la pressione in questi giorni è alta. L'influenza in maniera maggiore e il virus respiratorio sincinziale responsabile della bronchiolite stanno colpendo pesantemente i bambini, specie quelli sotto i 5 anni. Questo è il quadro tracciato da Rino Agostiniani, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria. I reparti di pediatria sono pieni e lo stesso è il pronto soccorso, da nord a sud, nei grandi ospedali e in quelli di media entità. Una situazione che in tante realtà sottolinea si è rivelata critica, con dei numeri veramente molto alti di visita alle strutture di emergenza e attese lunghe. I dati del rapporto Respivirnet e il sistema di sorveglianza integrata, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità con il sostegno del Ministero della Salute, parlano di un aumento casi di sindromi simili influenzali con 17,2 casi per 1000 assistiti, con un numero di casi stimati che tra bambini e adulti supera il milione nell'ultima settimana presa in considerazione. Aumento dovuto a diversi virus respiratori non solo quelli dell'influenza e la cui incidenza è in crescita specie nelle fasce di età pediatriche, mentre è stabile negli adulti anziani.